Amoris Laetitia, la gioia dell'amore, l'esortazione apostolica post-sinodale sull'amore nella famiglia, datata non a caso 19 marzo, Solennità di San Giuseppe, raccoglie i risultati di due sinodi sulla famiglia indetti da Papa Francesco nel 2014 e nel 2015. Essa è suddivisa in nove capitoli e oltre 300 paragrafi, ma si apre con sette paragrafi introduttivi che mettono in piena luce la consapevolezza della complessità del tema e l'approfondimento che richiede. La famiglia non è un ideale astratto ma un compito artigianale. La sua vita concreta è al centro dell'esortazione apostolica presentata questa mattina alla stampa. Un testo dallo stile semplice, realista ma anche diretto. Un avvenimento linguistico, ha detto il cardinale Christophe Schaubborn, commentando il documento. Discernere, accompagnare, integrare le parole chiave. Compiere un'opera di misericordia verso chi è in stato di bisogno è un modo di irradiare nel mondo l'abbraccio e la smisurata bontà di Dio. Lo ha detto Papa Francesco ricevendo e ringraziando i membri della Papal Foundation. Orrore e timore nell'enclave cristiana armena di Nagorno-Karabakh dopo il violento attacco dell'Arzebaijan lungo tutta la linea di contatto con la Repubblica che si era dichiarata indipendente nel 1992. L'attacco contro infrastrutture e insediamenti civili e militari è in assoluto il più violento dal 1994. Tra le milizie a zere anche combattenti IS. Intervista Emanuele Aliprandi, esperto dell'area. Funzione della pena, giustizia riparativa e amministrazione del sistema carcerario. Questo è il tema del convegno che si è tenuto all'Università Europea di Roma. Un confronto sul fondamento della sanzione criminale tra funzione rieducativa del condannato, retributiva e preventiva. Una lettera di Papa Francesco al mondo. La gioia dell'amore, sull'amore in famiglia. Una lunga lettera d'amore del Pontefice che ha comportato oltre due anni di lavoro e che ha avuto inizio ascoltando i fedeli nel mondo, a cui ha fatto seguito un incontro dei Vescovi a Roma per discuterne. Papa Francesco ha ascoltato e ha formulato la sua risposta. L'amore e la famiglia sono per il Pontefice una vocazione gioiosa. La gioia dell'amore offre speranza e incoraggiamento. Papa Francesco è anche consapevole delle difficoltà e desidera dire a tutti che la Chiesa è al loro fianco, pronta ad offrire guarigione e speranza. Papa Francesco pone l'accento sulla comprensione, la compassione e sulla misericordia. Il Santo Padre ha visto la sofferenza della gente, conosce i problemi e le sfide che le famiglie devono affrontare, mancanza di lavoro, sentimenti di ostilità verso una vita nuova, violenza e droga, migrazioni. È una lista lunga. Ma ancora più lungo è l'elenco di forze positive in aiuto della famiglia che Papa Francesco enumera. virtù come la pazienza, la generosità e la speranza, la fedeltà, il perdono e la forza spirituale di fronte alle avversità. La gioia dell'amore ritrae la ricca e profonda realtà delle esperienze quotidiane della vita familiare, offrendo idee per aiutare i coniugi nelle difficoltà, accompagnandoli con empatia quando non ce la fanno. Il Papa dice sì all'educazione sessuale in un'epoca in cui la sessualità viene banalizzata. Papa Francesco rivolge un pensiero particolare ai sacerdoti e a quanti operano nell'ambito della famiglia, ricordando loro che ogni situazione è unica e che essi devono ascoltare, non solo con le orecchie, ma con il cuore. Nelle situazioni difficili o irregolari, i ministri della Chiesa devono saper discernere, accompagnare e integrare, non condannare, ma aiutare tutti a partecipare alla vita della Chiesa. La luce di Dio risplende sempre oltre le tenebre. La sua tenera misericordia è per tutti. Una sala stampa vaticana a Stracolma, questa mattina come nelle più grandi occasioni, per la presentazione dell'esortazione apostolica, attesissimo documento che chiude due anni di lavori sinodali. La famiglia non è un ideale astratto, ma un compito artigianale. La cifra di Amoris Laetitia e l'attenzione alla concretezza, la finezza psicologica, la sollecitudine paterna, in un testo ricco di citazioni da documenti pontifici e del Vaticano II, di San Giovanni Paolo e conferenze episcopali, citazioni dei padri della Chiesa e teologi medievali e moderni, su tutti ben 19 da San Tommaso e di autori contemporanei come Fromm, Boneffer, Borges, Luther King. Verrebbe da dire che questo non è un testo per addetti ai lavori, per gli specialisti della pastorale, ma per addetti alla vita, ossia per tutti noi che in maniera diversa siamo parte di una famiglia. Chi lo legge, chi legge in particolare la parte centrale dedicata all'amore in famiglia o il capitolo sull'educazione dei figli, avverte che qui si sta parlando proprio di lui, che il Papa conduce per mano a scoprire la bellezza delle nostre famiglie, imperfette, fragili, ma straordinarie, perché sorrette nel loro quotidiano cammino dall'amore del Signore che non si stanca, non viene meno e che fa nuove tutte le cose. Un linguaggio semplice come il saluto di Papa Francesco la sera della sua elezione, ha sottolineato il Cardinal Schoenborn, caratterizzato da realismo. Su matrimonio e famiglia, detto il porporato, c'è spesso la tendenza a condurre il discorso su due binari. Da una parte ci sono i matrimoni e le famiglie che corrispondono alla regola, dall'altra le situazioni irregolari. La prima parola chiave perciò è integrare tutti. Papa Francesco è riuscito a parlare di tutte le situazioni senza catalogare senza categorizzare con quello sguardo di fondamentale benevolenza, che ha qualcosa a che fare con il cuore di Dio, con gli occhi di Gesù, che non ne escludono nessuno, che accoglie tutti e a tutti concede la gioia del Vangelo. L'esortazione per l'Arcivescovo di Vienna rappresenta un avvenimento linguistico. Per me Amoris Laetitia è perciò soprattutto in primo luogo un avvenimento linguistico, si oso dire, così come lo è stato già l'Evangelii Gaudium. Qualcosa è cambiato nel discorso ecclesiale. Altre parole chiave sono discernere e accompagnare. Tali parole non valgono solo per le cosiddette situazioni irregolari. Papa Francesco sottolinea queste cosiddette. Ma valgono per tutti gli uomini, ogni matrimonio, per ogni famiglia. Tutti infatti sono in cammino e tutti hanno bisogno di discernimento e di accompagnamento. A volte, si legge in Amoris Laetitia, abbiamo presentato un ideale teologico del matrimonio troppo astratto, quasi artificiosamente costruito, lontano dalla situazione concreta e dalle effettive possibilità delle famiglie così come sono. Il punto è quindi motivare l'apertura alla grazia, dice il documento, presentare il matrimonio più come un cammino dinamico di crescita e realizzazione che è come un peso da sopportare per tutta la vita, ma anche dare spazio alla coscienza dei fedeli. Siamo chiamati a formare le coscienze, non a pretendere di sostituirle. Al di là di lassismo e rigorismo, il Papa ha rivolto uno sguardo positivo alle famiglie, invitando a parlare loro così come sono. L'esortazione richiede la conversione pastorale di cui parlava l'Evangelii Gaudium, si sofferma sulla necessità di preparare i fidanzati in modo serio, di accompagnare le coppie nei primi anni di matrimonio, ma anche con profondità sulla trasmissione della fede e l'educazione dei figli, dedica spazio alla spiritualità coniugale, all'educazione sessuale, all'ideologia gender. Nel capitolo 8 approfondisce l'approccio alle situazioni dette irregolari nella logica di misericordia pastorale e nella legge della gradualità. La logica dell'integrazione è la chiave del loro accompagnamento pastorale, si legge al 299, perché non soltanto sappiano che appartengono al corpo di Cristo, che è la Chiesa, ma ne possano avere una gioiosa e feconda esperienza. Essi non solo non devono sentirsi scomunicati, ma possono vivere e maturare come membra vive della Chiesa. Il cardinal Sheinborn ha poi spiegato come sia centrale lo spazio dato dall'esortazione alla coscienza, alla responsabilità personale, al discernimento. Il discernimento per natura sua comporta una certa incertezza, una certa incertezza, perché San Tommaso dice, e il Papa lo cita nel suo testo, i principi sono evidenti, sono chiari, sono chiarissimi, enunziati chiaramente, ma quanto più si scende nell'azione, nelle situazioni concrete, diventa più delicato di discernere, e per questo l'esercizio degli esercizi ignaziani è proprio il discernimento dei spiriti di discernere. Sempre sarà così che un prete forse sarà un po' più più disposto a una visione più larga, un altro sarà forse un po' più timoroso, anche più severo che nel discernimento, ma questo sarà sempre così, anche nella vita familiare. Il discernimento è una opera delicata ma necessaria. Papa Francesco ha ricevuto questa mattina i membri, gli amministratori e gli steward della Papal Foundation. Il Santo Padre ha manifestato gioia nel ritrovarsi con questa realtà, portando a esprimere l'apprezzamento per la generosità manifestata verso il Ministero Petrino e verso la Chiesa nel mondo. L'occasione dell'incontro, ha ricordato il Papa, si inserisce nell'ambito del Giubileo della Misericordia durante il quale contempliamo il mistero della Misericordia che è fonte di gioia, serenità e pace e dalla quale dipende la nostra salvezza. Ancora il Papa ha ricordato come le opere di Misericordia siano al cuore della Papal Foundation. Mediante il vostro generoso aiuto ai progetti diocesani parrocchiali e delle comunità, come pure attraverso l'offerta di borse di studio, sono le parole del Papa, voi assistete molte persone perché rispondano efficacemente ai bisogni presenti nelle loro comunità e portare avanti in modo sempre più proficuo le opere di misericordia. In questo modo la vostra carità si irradia nel mondo offrendo nuove iniziative che aiutano ad espandere l'abbraccio misericordioso del Padre. Concludendo, l'auspicio del Papa è stato quello che il Padre Celeste possa sostenere le opere buone di questa fondazione ma soprattutto possa condurre ad una fede e a un'esperienza sempre più profonda del suo infinito amore. Tra l'1 e il 2 aprile un attacco fortissimo dell'Azerbaijan alla Repubblica del Nagorno-Karabakh. Che cos'è questa regione? La Repubblica del Nagorno-Karabakh è un piccolo stato del Caucaso meridionale, una regione storicamente armena che negli anni 20 Stalin, nonostante il 95% della popolazione fosse armena, decide di regalare per sottili strategie politiche all'Azerbaijan che è turco e musulmano. Per tutto il periodo di esperienza dell'Unione Sovietica gli armeni del Nagorno-Karabakh regione autonoma statuto speciale sono costretti a sottostare a un governo e a un'amministrazione che non riconoscono. Con la dissoluzione dell'impero sovietico ritornano tutte le istanze di autodeterminazione di vari popoli fra i quali quello degli armeni del Nagorno-Karabakh e a seguito di un percorso democratico e legalmente valido riescono a dichiarare la loro indipendenza dalla Repubblica dell'Azerbaijan che nel frattempo si era staccata dall'Unione Sovietica. C'era una tregua, c'erano tensioni tra queste due realtà tra l'Azerbaijan e questa Repubblica Autonoma ma il primo aprile l'attacco è stato massiccio missili, elicotteri carri armati che cosa è successo esattamente? Nel maggio del 94 viene firmato un accordo di cessato il fuoco dopo la guerra per 20 anni abbondanti si sono succedute violazioni del cessato il fuoco l'Azerbaijan che reclama il possesso del territorio tra la notte del primo aprile e il 2 aprile all'improvviso queste violazioni diventano un vero e proprio tentativo di invasione del Nagorno-Karabakh le difese armene sono colte di sorpresa perché non si immaginano l'impiego di centinaia di uomini carri armati elicotteri droni missili grad missili smerche che tirano a 100 km di distanza sbandamento la giornata di sabato è terribile per la popolazione del Nagorno-Karabakh e per tutti gli armeni non solo dell'Armenia ma del mondo perché rischiano di perdere quel lembo di territorio che storicamente culturalmente religiosamente politicamente appartiene a loro la controffensiva riesce dopo 4 giorni di scontri violentissimi a rimandare indietro gli azzeri oltre le linee di confine il bilancio ufficioso è di alcune decine di morti da una parte e dall'altra il bilancio non scritto non detto degli azzeri è che probabilmente molte centinaia di soldati azzeri mandati allo sbaraglio contro le prime linee armene non sono più tornati indietro purtroppo si segnalano nelle poche ore di occupazione azzera del territorio episodi brutali una famiglia di contadini anziani contadini del villaggio di Talisce che è stata sterminata con amputazioni correva voce addirittura che ci fossero guerriglieri dell'isis provenienti da Rakka che si siano uniti alle truppe azzere nel tentativo di eliminare gli armeni sono stati colpiti con i missili grad insediamenti civili in una scuola bombardata è morto un bambino di 12 anni è stata una delle primissime vittime civili di questa invasione dopo quattro giorni è stato firmato un accordo anzi non è stato firmato è stato concordato fra i comandanti militari un accordo di non belligeranza che sta in qualche modo viene rispettato sono moltissime le organizzazioni armeni in tutta Italia in tutto il mondo che hanno lanciato un appello affinché il Karabakh il Nagorno Karabakh l'antico armeno Arzak nel monastero di Amaras è nata il monaco Mastoz ha creato la scrittura armena le chiese i monasteri del Karabakh non possono essere abbandonati per questo quando c'è stata l'invasione del Karabakh tutto il mondo armeno va tremato per la paura di perdere questo lembo di territorio speriamo che le cose si sistemino migliori e che la pace arrivi finalmente duratura in quella regione Funzione della pena giustizia riparativa e amministrazione del sistema carcerario questo è il tema del convegno che si è tenuto all'Università Europea di Roma un confronto sul fondamento della sanzione criminale tra funzione rieducativa del condannato retributiva e preventiva l'iniziativa è stata promossa con l'impegno degli stessi studenti dell'Università è ancora una situazione drammatica quella delle carceri italiane causa il sovraffollamento ha spiegato la presidente della Onlus Prison Fellowship nata nel 2009 in Italia ma attiva da oltre 30 anni con 132 sedi nazionali in tutto il mondo oggi la situazione è ancora penosa abbiamo di nuovo un carcere affollatissimo e purtroppo i numeri ci danno da pensare siamo su soglie che ci porteranno di nuovo probabilmente a qualche difficoltà in Europa il problema dell'affollamento è subordinato al problema giustizia in realtà noi non riusciamo a risolvere un problema che è alla base che è il problema giustizia il problema della pena oggi ne parleremo ma è un problema serio importante abbiamo questi tavoli di lavoro che stanno completando in questi giorni gli stati generali al lavoro ma bisognerà riformare la giustizia a monte quello che noi proponiamo è proprio un sistema diverso di pena meno carcere meno carcere lo diciamo da tanto tempo ci sono dei reati che non devono essere scontati la pena non deve essere il carcere ci sono pene alternative ci sono dei luoghi alternativi nei quali scontare una pena nei quali accompagnare chi ha intrapreso un percorso di devianza accompagnarlo perché possa tornare rieducato in società è su questo che bisogna lavorare la situazione non è bella spendere meno per il carcere e di più per spazi adeguati passare da una giustizia che sanziona a un sistema di giustizia rieducativa queste le strade per migliorare la situazione dei carceri mettendo al centro la persona in un'ottica di riabilitazione che cosa si può fare di più per trasformare il carcere in un luogo di speranza io personalmente dico poco carcere soltanto per i casi di pericolosità sociale dove c'è davvero da allontanare il criminale ma in tutti gli altri casi ci sono comunità che possano educare ci sono anche centri al di fuori del carcere strutture che noi dobbiamo favorire che dobbiamo implementare noi spendiamo anche una cifra sbalorditiva per il carcere quella stessa cifra dimezzata potrebbe aiutarci fuori dal carcere in strutture adeguate strutture penso alle mamme per i bambini ce n'è solo una in Italia dove le mamme e i bambini possono essere accolte i bambini stanno in carcere ci sono persone innocenti che sono in carcere sono i bambini noi dovremmo invece utilizzare il denaro che spendiamo per mantenere le carceri per creare strutture alternative fuori facciamo troppo poco anche la messa alla prova è un istituto nuovo ma facciamo troppo poco bisognerebbe passare da un sistema di giustizia retributiva sanzionatorio ad un sistema di giustizia riparativa che accompagni il detenuto in una rieducazione vera reale si può si può prima pagina dell'osservatore romano con la data del 9 aprile 2016 presentata l'esortazione apostolica a Moris Letizia che raccoglie e rilancia i frutti dei due sinodi sulla famiglia tenuti nel 2014 e nel 2015 la gioia dell'amore l'editoriale per il bene di tutti ripreso il trasferimento dalla Grecia alla Turchia mentre nei campi profughi la situazione resta critica rotta inversa a